Ciao a tutti, sono Leone dell'azienda agricola Aregola d'Orto. Siamo a Monteviale e produciamo frutta e verdura a ispirazione biodinamica. Abbiamo ospitato il progetto B-Bethoven a fine dell'estate e all'inizio dell'autunno e abbiamo scelto, tra i diversi posti che avevamo, il bosco di Aregola d'Orto. Riteniamo che il bosco possa essere un luogo che in qualche misura porta le persone a riscoprire il ritmo della natura e anche l'atmosfera che può creare la natura. Visto che siamo fortunati e bosco ne abbiamo, perché non utilizzarlo per fare questa bellissima esperienza all'interno di un bosco? È stata un'esperienza veramente forte per chi l'ha vissuta, proprio per il contributo reale che hanno dato le piante nel creare questa specie di anfiteatro naturale. Consiglio ad altre realtà, ma non solo aziende agricole, ma anche locali, luoghi, qualsiasi cosa possa essere particolare di ospitare queste iniziative. Almeno per la nostra sensibilità portano un tono creativo e un sentire diverso, quindi si ha la possibilità proprio di portare creatività e arte da fuori all'interno del luogo. Questo può essere solo che un arricchimento ed è un'energia che poi permane nel posto. Io ho sentito tantissimo questa differenza nei giorni successivi specialmente, anche per il divertimento, per le risate dei bambini e anche per i momenti conviviali che abbiamo poi potuto condividere assieme, insomma, che fanno sempre allegria e anche crescita, ecco, personale.